eccoci benvenuti con cittadini di ultuan oggi siamo con alti elfi contro bretonia match bastanza tosto per gli alti elfi da sempre un match complicato quello contro bretonia per il fatto che tendenzialmente gli alti elfi soffrono cavalleria pesante bretonia è la regina delle cavallerie e quindi si prende un match tosto lista molto particolare test per verificare come funzioni di alti elfi da parte di rider of ron e lista di bretonia invece abbastanza classica andiamo a vedere la lista di bretonia per il momento visto che abbastanza quella che conosciamo vabbè abbiamo l'un con tutto il suo kit damigella della vita con earthblood e regga route ovviamente abbiamo un trabucco che è l'unica cosa insolita ma è ottimo per fanterie elite come possono essere le phoenix guard anche se in realtà le phoenix guard adesso se caricate bene con sei colciaggiate da grail knight esplodono però è anche utile contro gli aceri degli alti elfi che sicuramente sono superiori agli aceri bretoniani seri bretoniani che sono composti da cinque quindi vuole vincere lo sconto di tiro col trabucco e poi uccidere immagino le alabate le lance con il tiro front line composta da quattro menat arms normali con spada giustamente cinque peasant mob classici con parto elite abbiamo ovviamente i royal hippogriff knights vera super unità di bretonia un'unità di cavalieri del reame 950 gold ottimo e poi abbiamo i grail guardian grail guardian che costano ancora di più dei grail knight sono meno modelli hanno stat più alte mantengono armor piercing ma perdono anti large e non hanno lo stesso bonus di carica devo dire che a me continuano a piacere i grail knight rispetto ai grail guardian sono molto più difensivi rendono di più quando sono tra virgolette rimangono a combattere in maniera persistente in un engage cosa che tendenzialmente non è quella che vuoi fare andiamo a vedere la lista dei degli altri elfi mi piace un commento ricordo che aiutano con l'algoritmo allora al cimago delle bestie su aquila classico vediamo flock of doom no abbiamo una amber spear amber spear che è una spell sottovalutata non è diciamo autopilot non è la classica spell che potete prendere e lanciare un po a caso sul primo blob funziona molto bene quando è lanciata dal lato fa una discreta penetrazione potrebbe shottare completamente un'unità prendendola bene dal lato però richiede di essere con la giusta inclinazione in più si comporta in maniera diversa sia lanciata dal cielo o da terra tenetelo in conto fate un po di prove prima magari se volete lanciarvi in questi test qui front line abbiamo white lion di cui uno della fama il pure main company che è un'unità bellissima con armon sundering può essere molto utile anche gardia che in questo caso non interessa più di tanto visto che non credo che la cimago andrà combattermi lì poi magari mi sbaglio cavalleria abbiamo due cavallerie leggere e poi abbiamo silver elms due con scudo uno senza unità che secondo me cioè lo scudo 100 gold costa tanto è vero che ci sono otto di differenza in melee defense ma 100 gold per lo scudo secondo me rimangono comunque troppini oltre ad essere un'unità che costa tanto per il resto degli alti elfi per quello che fa bisognerà vedere come verranno utilizzati sono molto curioso abbiamo anche i war lions of grace che portano armor piercing dove serve come vedete tutto armor piercing quindi tutto che funziona bene contro la cavalleria in realtà non sarà anti large ma ricordiamo che i grail guardian e grail knight hanno 120 armor iniziamo subito tabucco che inizia a sparare su un white lions a caso a questo punto tanto voleva tirare sul pure main o su il shadow walker scusate shadow walker unità interessante perché è melee anti infantry e ha un tiro molto utile che quello con poison che rallenta anche quindi ottimo per tirare sulle fanterie cavallerie tra l'altro rimane nascosta come vedete dal dal dall'occhietto arriva l'alci mago che sono curioso di vedere cosa fa come verrà usato tirala aia mamma mia era sicuramente overcast ma guardate i modelli che ha ucciso che è quello che interessa di più fare contro questo tipo di cavalleria qui se questo regolo qui non può tirare sui modelli sette modelli sono stati persi sette modelli di una cavalleria da 1800 gold sono veramente veramente tanti qua abbiamo la controcarica dei grail knight ottimo arrivano subito a rimorchio anche doppia unità di silver elms e i peasant mob ci stanno per lasciare quindi qui grail guardian si ritroveranno contro tutta sta roba qui guardate che hanno 90 armatura quindi anche i silver elms funzionano molto meglio arcieri sono molto vicini alla front line rischiano parecchio completamente sciolti shadow walkers probabilmente perché sono stati visti da quest'altro lato invece abbiamo l'wen e royal hippogriff che fanno un disastro su questi white lions anche qua silver elms veramente stroncati da cavalieri del reame e la carica del rete degli hippogriff lato destro alto elfico che sta rischiando veramente tanto per il commitment che ha infatti bretonia ma è anche vero che il centro di bretonia è completamente esploso tutto esploso compresi i grail guardian quindi la cavalleria che è in maggior numero degli alti elfi nonostante sia meno forte va a rincorrere tutti gli aceri e a questo punto bretonia deve lasciare l'engage qui e si riprendono i white lions e possono trinciare completamente a questi mena tarps ottima sinergia in questo caso tanta tanta cav che è difficile ok questo mi sa che non è stato eccezionale di spell fanteria bretoniana che non esiste più sulla faccia della terra cavalleria che riesce ad andare a prendersi soprattutto in virtù della loro velocità cioè ricordiamo che hanno 92 speed gli aliria rivers e silverelms 84 sono velocissimi questi aceri qui rischiano di fare di nuovo una brutta fine qui abbiamo degli aliria rivers pure main company oppongono resistenza sugli ultimi mena tarps rimasti qui arrivano anche i leoni perché i leoni sono mobility quindi devi stare attento anche all'ingaggio vuoi eliminare una linea rivers arriva rimorchio un white lions e un war lions e la p è arrivato dove serve re growth sugli ipogrifi ottima scelta anche perché sono ancora 12 su 12 modelli quindi la cura viene massimizzata ma è vero che prima o poi dovranno scendere queste qua abbiamo lo sconto contro i grail guardian vediamo chi cederà prima perché può fare la differenza cedono per primi ovviamente silverelms gregg e anche però sono solo sette modelli che saranno più che altro obbligati a rincorrerli e questi aceri qua hanno ancora parecchia vita non riesce a mandarle in fuga in maniera consistente ma è anche vero che adesso le fanterie arrivano war lions si sono liberati qua abbiamo degli altri aliria rivers qui una bella carica ci starebbe anche perché poi mandati in fuga questo l'accompagno fuori e uccidi grail guardian che ancora stanno pesando vediamo come la balance of power sia a favore di bretonia tenuta tutta su da ipogrifi e luen luen veramente asso nella manica a questo punto perché è ancora full vita si rigenera resistenza al tiro resistenza al spell sword of puron che è fortissima gli alti elfi devono mandare in rotta tutto fare finta che luen non esista fare finta che royal ipogriff non esistano l'unico problema è che dove arrivano mandano in rotta e massacrano gli alti elfi è anche vero che la frontale in pian pianino si sta portando sempre più a contatto con quello che è rimasto qua c'è un amber spear che fa un discreto danno anche la damigella amber spear spell sempre molto interessante qui carica di questi silver elms silver elms unità che è in carica comunque per mille gold 900 gold 64 di bonus di carica si fa sentire quando ti arrivano soprattutto se nella schiena o di lato bretonia che oppone l'ultima resistenza blobbanda arrivano anche gli ipogrifi vediamo se luen può fare qualcosa magari tenterà di salvare la maga non credo va completamente nel blog vediamo se il terrore degli ipogrifi di luen potrà salvare bretonia parte sword of puron se non sbaglio questo sword of puron si leadership degli alti elfi che è alta anche proprio in virtù del fatto che la bilanza del potere è abbastanza pari bilanza del potere che pian pianino fa sempre uno scattino verso gli alti elfi soprattutto adesso che i royal ipogriff sono ridotti a sette modelli e sono in fuga se riesce ad inseguirli visto che hanno solo meno 10 meno 13 ok tutto sta blinkando tutto sta venendo accompagnato fuori ottima scelta da parte dei gli alti elfi adesso è semplicemente luen in mezzo a una miriade di fanteria armor piercing sono tornati anche gli shadow walker che a questo punto potrebbero tirare sull'en abbassaglie le statistiche con veleno sarebbe veramente l'ultimo chiodo della vara guardate qua come si accompagnano tutti fuori qualcosina torna immagino che è esatto il tiro degli shadow walkers si giri proprio adesso luen ha tutte le statistiche debuffate e mi aspetto che adesso la cimago della vita gli cacci un altra amber spear nella schiena qualcosina sta tornando ma eroi e l'ipogriff sono fuori fuori vediamo 4 rischiano di tornare rischiano di tornare come loro solito hanno 4 di leadership sono sul bordo della mappa no non tornano non tornano e quindi credo che a questo punto sia proprio gg luen dice a me chi me lo fa fare sono l'unico rimasto aveva ancora 4000 punti vita e non era sicuramente facile tirarlo giù bastava anche un paio di fanterie che gli concedessero di circle chalgiare e il discorso sarebbe stato ben diverso ma giustamente manca completamente il supporto e anche luen si ritira voglio vedere shadow walkers che non hanno fatto molto sono stati bersagliati subito ottimi rivers buonissimi leone un leone buonissimo l'altro molto meno silver elms è uno bene la gli altri invece white lions vabbè due benissimo mamma mia la cimaga della vita scusate delle bestie con ambaspear degli ottimi gli ottimi risultati luen me vabbè i popolani hanno fatto i popolani fanteria che non aveva nessuna possibilità di competere aceri che si sono quasi ripagati molto buoni cavalieri del reame meno bene grail guardian molto buoni royal hippogriff meno bene il trabucco devo dire che cinque aceri sono tosti da difendere anche per bretonia anche in un match favorevole considerando che poteva tagliarne due per prendere un night of the realm cioè sinceramente portare tanta roba nel senso 4 3 facciamo cavalieri del reame parecchia chaff che può bloccare la fanteria elfica i tuoi cavalieri del reame che vincono gli scontri con i silver elms hanno antilage contro le leoni del craze in carica comunque il loro danno lo fanno contro anche white lions sarebbe stato molto 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 interessante royal hippogriff che sono talmente forti che fai fatica a dire qualcosa sul pattarli o meno trabucco che non mi convince trabucco che non mi convince che però capisco nell'ottica del mi aspetto un muro di lance degli alti elfi muro di lance che non si è presentato ma o aceri o trabucco troppa roba da difendere con solo tre unità di mobility dai di cui eroi elipogriff in realtà non sono neanche una cav difensiva detto questo io vi ringrazio per aver visto il video vi ricordo che un mi piace e un commento aiutano con l'algoritmo di iscrivervi se ancora non l'avete fatto aiutatemi a raggiungere i 1000 iscritti vi ricordo anche che trovate giù in descrizione nel primo commento pinnato tutti i link social instagram facebook e discord dove vi invito ad iscrivervi a seguirmi e tra l'altro nel gruppo discord i sub chi si abbona a un gruppo dedicato abbonamenti che partono già da un dollaro un euro al mese per avere l'accesso anticipato nei video e questo è uno dei modi per supportare il canale potete supportare il canale anche con i link affiliati di amazon e di stand gaming soprattutto vi invito a usare il link di stand gaming perché risparmiate veramente tanto volete un dlc di wearhammer volete un gioco nuovo volete qualsiasi cosa tramite lì risparmiate e soprattutto ricordatevelo per il prossimo dlc che arriverà detto questo io vi saluto e al prossimo video vi saluto vi saluto vi saluto vi saluto vi saluto vi saluto vi saluto